Scrivo questa lettera alla vigilia dell'anniversario di una data che mi ha cambiato la vita, il 24 settembre del 2005. Mi presento, sono Paolo Scaroni, abito a Castenedolo, piccolo paese della provincia di Brescia. Ero un allevatore di tori, ero un ragazzo normale, con amicizie, una ragazza, passioni, sani valori, anche sportivi e la giusta curiosità. Facevo infatti molti sport e viaggiavo quando potevo. Ero soprattutto un grande tifoso del Brescia, una persona normale come tante, direbbe lei. Oggi non lo sono più, per la verità tifoso del Brescia lo sono rimasto, sebbene non posso più vivere la partita allo stadio come ero solito fare, cantando, saltando, godendo oppure soffrendo. Tutto è cambiato il 24 settembre del 2005 nella stazione di Porta Nuova Verona. Quel giorno, alla pari di migliaia di tifosi bresciani, fra i quali molte famiglie e bambini, avevo deciso di seguire la Leonessa Verona con le migliori intenzioni, per quella che si preannunciava una sfida decisiva per il nostro campionato di Serie B. Finita la partita, siamo stati scortati in stazione dalla polizia senza nessun intoppo o tensione. Dopo essermi recato al bar sottostante la stazione, stavo tornando con molta serenità al treno riservato a noi tifosi, portando dell'acqua all'arresto della compagnia. Era stata una giornata molto calda ed eravamo quasi tutti disidratati. Tutti gli altri tifosi erano già pronti sui vagoni per fare velocemente il ritorno a Brescia. Mancavano pochi minuti ed i binari della stazione erano completamente deserti, cosa alquanto strana visto il periodo, l'orario e soprattutto la città in cui eravamo, centro nevralgico per il passaggio dei treni. Improvvisamente, senza alcun preavviso o motivo apparente, sono stato travolto da una carica di alleggerimento del reparto Celere in servizio quel giorno per mantenere l'ordine pubblico e picchiato a sangue, senza avere nemmeno la possibilità di ripararmi. Sottratto al pestaggio dagli amici, colpiti loro stessi dalla furia delle manganellate, sono entrato in coma nel giro di pochissimo e quasi morto. Dopo circa 20 minuti dall'aver perso conoscenza, sono stato caricato su un'ambulanza, osteggiata più o meno velatamente, dallo stesso reparto che mi aveva aggredito e trasportato all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Lì sono stato operato d'urgenza, lì sono stato salvato, lì sono tornato dal coma dopo molte settimane, lì ho passato alcuni mesi della mia nuova vita, una vita d'inferno. Nel frattempo la mia famiglia, in uno stato d'animo che fatico ad immaginare, subiva pressioni e minacce affinché la mia vicenda mantenesse un basso profilo. Ai miei amici non andava certo meglio, nonostante tutti gli sforzi per far uscire la verità. Ovviamente alcune cose di qui sopra le ho sapute molto tempo dopo la mia aggressione, il resto l'ho scoperto grazie al lavoro del mio avvocato. Dalla ricostruzione dei fatti e tramite le tante testimonianze emerge un quadro inquietante, quasi da non credere, ma proprio per questo da rendere pubblico. In seguito alle gravissime lesioni subite presso la Procura della Repubblica di Verona è iniziato un procedimento a carico di alcuni poliziotti e funzionari identificati quali autori delle lesioni da me subite. Nonostante il giudice per le indagini preliminari abbia respinto due volte la richiesta d'archiviazione, il Pubblico Ministero non ha ancora esercitato l'azione penale contro gli indagati. Mi domando per quale ragione ciò avvenga e perché mi si è negata giustizia. Oggi, dopo aver perso quasi tutto, rimango perciò nell'attesa di un processo, nemmeno tanto scontato, considerati i precedenti ed i tentativi di screditarmi. Oltretutto i poliziotti erano tutti a volto coperto, quindi non identificabili. Com'è possibile tutto questo? Sebbene a comandarli ci fosse una persona riconoscibilissima. Dopo le tante bugie e cattiverie uscite in modo strumentale sul mio conto a seguito della vicenda, aspetto soprattutto che mi venga restituita la dignità. Illustrissimo Ministro degli interni. Sebbene la mia vicenda non abbia destato lo stesso scalpore, ricorda un po' le tragedie di Gabriele Sandri, di Carlo Giuliani ed in particolare di Federico Aldrovandi, accaduta a poche ore di distanza dalla mia, con una piccola grande differenza. Io la mia storia la posso ancora raccontare, nonostante tutto. Le dinamiche della vicenda sopra citate forse non saranno identiche, ma la volontà di uccidere sì, è stata la medesima. Altrimenti non si spiega l'accanimento di queste persone nei miei confronti, soprattutto se si considera che non vi era una reale situazione di pericolo. Era tutto tranquillo, ero caduto a terra, ero completamente inerme. Ma le manganellate, come descrive il referto medico, non si sono più fermate. Forse, ho pensato, oltre alla vita, volevano togliermi anche l'anima. Per farla breve, in pochi secondi ho perso quasi tutto quello per cui avevo vissuto. Per questo mi sento ogni giorno più vicino a Federico e senza un motivo apparente, sempre ovviamente che esista una giustificazione per scatenare tanta crudeltà ed efficienza. Le mie funzioni fisiche sono state ridotte notevolmente e nonostante la lunga riabilitazione a cui mi sottopongo da anni, con molta tenacia, non avrò molti margini di miglioramento. Questo lo so quasi con certezza. L'unica cosa funzionante, come prima nel mio corpo, infatti, è il cervello, attivo come non mai. Dopo quattro anni non ho ancora stabilito se questa sia stata una fortuna. Ho perso il lavoro, sebbene abbia un padre caparvio che insiste nel mandare avanti la mia ditta, sottraendo tempo e valore ai suoi impegni. Ho perso la ragazza, ho perso il gusto di viaggiare. Il più delle volte quelli che erano itinerari di piacere si sono trasformati in veri e propri calvari a causa delle mie condizioni fisiche, nonostante mi spinga ancora molto lontano. Ho perso soprattutto molte certezze relative alla libertà, al rispetto, alla dignità, alla giustizia e soprattutto alla sicurezza. Quella sicurezza che lei invoca ogni giorno e tenta di imporre sommando nuove leggi e nuove norme a quelle già esistenti, fino a ieri molto efficaci, almeno per l'opinione pubblica. Peccato però che queste leggi non abbiano saputo difendere me, Federico, Carlo e Gabriele dagli eccessi di coloro che rappresentavano in quel momento le istituzioni. Illustrissimo ministro degli interni, alcune cose mi martellano più di tutto. Ogni giorno mi domando infatti cosa possa spingere degli uomini a tanto. Non ho la risposta. Ogni giorno mi domando se qualcuna di queste tragedie potesse essere evitata. La risposta è sempre quella, sì. A mio modesto parere, ciò che ha permesso a queste persone di liberare la parte peggiore di sé è stata la sicurezza di farla franca. Sembra un paradosso, ma in un paese come il nostro in cui si parla tanto di certezza della pena, di responsabilità e di omertà, proprio coloro che dovrebbero dare l'esempio agiscono impuniti, infrangendo ogni legge scritta e non, disonorano razionalmente la divisa e l'istituzione rappresentata, difendono chi fra loro sbaglia impunemente. Illustrissimo ministro degli interni, dopo tante lucubrazioni sono giunto ad una conclusione. Se queste persone fossero state immediatamente riconoscibili, responsabili perciò delle loro azioni non si sarebbero comportate in quella maniera ed io non avrei perso tanto. Le chiedo quindi, com'è possibile che in Italia i poliziotti non portino un segno di riconoscimento immediato come accade nella maggior parte delle nazioni europee? Illustrissimo ministro degli interni, io non cerco vendetta, semmai giustizia. Mi appello a lei e da tutte le persone di buon senso, affinché questi uomini vengano fermati ed impossibilitati nello svolgere ancora il loro dovere. Chiedo quindi che si faccia il processo e nulla sia insabbiato. Cordiali saluti, Paolo Scaroni, vittima di uno stato distratto.